oh ma buonasera senti guarda che io c'ho un ragazzo e che significa c'è un ragazzo e perché io non passavo un ragazzo che me manca niente che te manca forse c'è pure troppo come si chiama se infame mohamed mario non ho capito non ho capito guarda più forte ma mohamed osama se chiama osama va bene ma osama vuol dire che è dell'acqua no vuol dire che c'è stata la scintilla dio mio ma io dico no una cosa però l'amici tua ma non ti dicono niente va tutta un giro fasciata come una monaca lo so un po di razzismo questa storia cosa ma dove fanno